Inizio questo video dicendovi che mi piace il Pixel 4. Infatti è un ottimo smartphone, ma ditemi quale oggigiorno dalla fascia media in su non è un ottimo smartphone. E dunque ci si deve aspettare qualcosina in più da aziende come Apple, Samsung e Google. E qui ci sono tante cose buone, ma manca sempre qualcosa. Dunque sì, lui è uno smartphone ottimo, ma mi ha anche deluso. Questo video è sponsorizzato da iSkySofts e dal loro nuovo software PDF Element Pro. Con il link qui sotto in descrizione potrete avere un 50% di sconto sulla versione Pro del loro software PDF Element, che vi permette di editare, annotare, convertire PDF e molto ancora. Funziona sia su Mac che su Windows ed è perfetto pure se dovete firmare un documento. La customizzazione dei file PDF è illimitata e ciò che è più importante, qui potrete anche convertire da tantissimi altri formati. È semplice da usare quanto Word, dunque non preoccupatevi. Come potete vedere l'interfaccia grafica è semplicissima, con tutte le funzionalità principali in prima funzione. Ad esempio la possibilità di convertire, di aggiungere delle caselle di testo, ecco sono tutte quante a portata di click. Questo vi permette di personalizzare il vostro PDF quanto e come voi volete. E grazie alla versione Pro avrete tutte le funzionalità illimitate. Se state cercando un editor per i PDF, lui fa il caso vostro. Scaricatelo con il link in descrizione con il quale avrete addirittura il 50% di sconto. E ben ritrovati sul mio canale ancora una volta, un saluto da Simone. Prima di iniziare cerchiamo di arrivare a 1500 like anche per questo video. E vi ricordo di attivare la campanellina delle notifiche se non l'aveste ancora fatto. Mi raccomando, è molto importante iscrivervi e attivare appunto la campanellina delle notifiche. Ma ora parliamo di lui e partiamo con quelli che dovrebbero essere i suoi punti di forza. Partiamo dalla fotocamera. I Pixel hanno sempre avuto probabilmente la miglior fotocamera tra gli smartphone. Eppure qui posso dirvi che la qualità fotografica è incredibile. E' incredibile se dovete fare foto statiche, foto normali. Perché l'algoritmo software è ottimo nel sistemare luci, ombre, dettaglio. E poi è ottimo se dovete fare foto con scarsa illuminazione. Ancora una volta quindi, parlando di software, funziona da paura. Riesce a tirar fuori scatti anche al buio più totale pur rimanendo molto dettagliati. A livello del Deep Fusion di iPhone 11 Pro per intenderci. E' in assoluto la miglior scelta se dovete fare foto con la fotocamera standard. Ma cavolo Google, è la grandangolare? Cioè hai messo per la prima volta una doppia fotocamera sul retro e hai messo una fotocamera telescopica 2x. Che funziona benissimo, perché il dettaglio che comunque riesce a mantenere lo zoom è molto buono, ma nel 2019 non si può più parlare di qualità fotografica fermandoci solo alle foto tra virgolette standard. Dobbiamo anche parlare di foto grandangolari, perché ormai tutti quanti ce l'hanno. Addirittura Apple ce l'ha e lo sappiamo. Quando Apple implementa qualcosa, la concorrenza deve per forza di cosa allinearsi. E se devi parlare di smartphone con la migliore fotocamera in assoluto, devi parlare ormai anche di video, come registra i video. E qua il Pixel 4 onestamente è una spanna sotto rispetto ad iPhone e anche a Note. Sono troppo impastati, poco contrasto, difficilmente si riesce a mettere mano via software di video editing perché anche con le diverse curve di colori le ombre e i midtones sono troppo impastati. Niente di drammatico, ma peccato si poteva e si doveva fare di più sul comparto fotocamera, visto anche quanto ci ha puntato in fase di presentazione. Ma praticamente è solo il software a metterci una pezza e a rendere così buona la qualità fotografica, perché per il resto manca proprio l'hardware. Anche la camera anteriore sul Pixel 3 aveva la doppia fotocamera, una più grandangolare dell'altra. Qui invece non c'è, c'è soltanto la camera standard, che però anche qui è un po' sottotono. Troppe mancanze hardware. E poi parliamo di sistema operativo, questo sì è il vero punto di forza del Pixel 4, ancora una volta. Android qui gira come su nessun altro smartphone, ed è logico che sia così. Tutto ben ottimizzato, nessun lag da nessuna parte, nessun blocco. Le app rispondono bene e grazie anche al display con un refresh rate a 90Hz sembra tutto ancora più fluido. Qui sul serio non ho niente da dire. La fluidità è a livello di iPhone e una spanna sopra a tutti gli altri top di gamma vari con Android. Inoltre è pieno di funzionalità particolari, come la trascrizione simultanea degli audio, che permette di scrivere in tempo reale ciò che il microfono capta, utilissimo per chi ad esempio va a lezione e non vuol fare sbobinature infinite. Oppure anche i sottotitoli automatici. Basta premere un tasto nel selettore del volume e quando saremo davanti ad un video, dovunque esso sia, ci verranno fuori i sottotitoli. Purtroppo per ora però è disponibile solo in inglese. Ma la cosa che io ho preferito è la vibrazione. Il feed è perfetto. Si sente nella tastiera, si sente quando alziamo o abbassiamo il volume, quando lo sblocchiamo ed è proprio soddisfacente. Un po' come succede con il feedback aptico di iPhone, se non l'avete mai provato. E potrei stare qui per ore a parlarvi di tutte queste piccole chicche software che ha il Pixel 4 e che tutti gli altri top di gamma Android non hanno e che rendono l'utilizzo veramente soddisfacente e produttivo. Ma anche qui qualche difetto. Ad esempio il display a 90 Hz non rimane sempre a 90 Hz. Ogni tanto, totalmente random, ve lo assicuro, passa a 60 così, quando gli pare. Quindi la feature che rende questo Pixel 4 molto più fluido rispetto agli altri Pixel ogni tanto funziona e ogni tanto no. Ok? Ma vi ho accennato del display. Display fantastico. È un'ottima unità OLED con una qualità discreta e quindi non ci sarebbe praticamente nulla da segnalare se non fosse per quelle dannatissime cornici. Passi la cornice superiore perché Google doveva mettere questo nuovo sensore Project Solid di cui parleremo tra poco e quindi serviva avere una cornice così spessa. Ma le tre cornici rimanenti, quindi le due laterali e quella inferiore, dovevano a mio avviso essere della stessa dimensione. Perché così facendo, quindi con due cornici laterali più sottili di quella inferiore che è più sottile di quella superiore, non c'è nessun tipo di armonia estetica. Sembra onestamente uno smartphone uscito dal 2013. È peccato perché secondo me il retro invece è molto bello. Il vetro satinato infatti è ottimo, non trattiene di tate, sembra ghiacciato alla vista e non scivola mai grazie ai bordi a contrasto in materiale aderente nero. E anche il quadrato che contiene le fotocamere secondo me è molto meglio di iPhone 11 perché è meno ingombrante e ci sta benissimo con il contrasto che fa il nero delle cornici. Però poi lo si guarda davanti e ti cade il mondo addosso. L'occhio starà sempre a guardare lo spessore di quei bordi. La soluzione appunto sarebbe stata semplicissima, rendere i tre bordi laterali ed inferiore dello stesso spessore, anche a costo di avere dei bordi laterali più spessi come ha fatto Apple su iPhone 11. Fine. E purtroppo non è neppure questo il problema più grande del Pixel 4. Infatti il problema più grosso è la batteria che soprattutto sul piccolo che è da 2800 mAh non vi porterà mai e poi mai oltre le tre ore, tre ore e mezza di schermo. Mi sono confrontato anche con altri che hanno detto la stessa identica cosa e con il Pixel 4 XL non cambia praticamente nulla. Si arriva forse, forse a quattro ore. Questo per via anche del sensore chiamato appunto Project Soli di cui adesso vi parlo. Il sensore è posto nella cornice superiore e serve, oltre a sbloccare in maniera 3D con il volto, serve pure a compiere qualche gesture senza toccare lo smartphone. Ad ora le app che lo supportano sono ancora poche e ho fiducia sul fatto che a breve molti sviluppatori inizieranno ad usarlo per bene nelle proprie app. Ma ad oggi, non dico che non serva a nulla, ma quasi. Serve unicamente a sbloccare in maniera rapida lo smartphone. Perché se lo abbiamo su una superficie e ci avviciniamo con la mano, lui recepisce la mano che si avvicina e inizia a cercare il volto. In questo modo non dobbiamo aspettare che il display sia acceso, ma basta avvicinarci allo smartphone per iniziare a sbloccarlo. Questo è davvero utile, non vi mentirò. Ma per il resto, meh, non trovo altre utilità, tranne il wallpaper con gli starter di ottava generazione. Quello è troppo bellino e posso giocare con lo starter migliore di spada e scudo, aka Sobble, assolutamente. Perché lo posso salutare, far saltare, mi segue con lo sguardo quando muovo il dito sul display, è molto simpatico e ora voglio questo wallpaper dappertutto. Ma a parte gli scherzi, serve a far capire le potenzialità di questo sensore che in effetti sono veramente interessanti. Quindi aspettiamo di dare il giudizio finale su questo sensore a quando gli sviluppatori lo utilizzeranno per bene. Per ora, infatti, è solo un qualcosa di contorno. E basta, finito qui, non c'è altro. Questo è il Pixel 4. La verità è che ha un ottimo, ottimo software, ma questo software non compensa tutte le mancanze hardware che lui ha. E la cosa mi fa incavolare da matti, perché era da tantissimo tempo che non provavo uno smartphone Android così soddisfacente lato software. Ma per il prezzo di 759€ per la variante piccola da 64GB, beh, lui si scontra in automatico con il nuovo iPhone 11, praticamente, che però ha della sua la stessa fluidità, con una camera grandangolare, una camera anteriore migliore, dei video migliori, ma soprattutto una batteria che dura tre volte tanto. Io dunque comprerei il Pixel 4? Beh, per una questione di soddisfazione software vi dico sì, perché utilizzarlo è davvero bello, ragazzi. È molto fluido, ha tutte quelle funzionalità simpatiche, che comunque lo rendono veramente ottimo da utilizzare. Fino a quando non vi si scarica la batteria, però. E a questo punto vi direi, ma per avere lo stesso software, non conviene spendere la metà e comprare il Pixel 3a, che sul sito di Google si trova a 399€? È che sì, non avrà lo stesso identico processore, ma lo stesso identico software, ma anche una batteria che dura molto di più. Non lo so, fate voi le vostre considerazioni e fatemi sapere qua sotto nei commenti. Io purtroppo sono rimasto davvero troppo deluso da questo Pixel 4, proprio perché ti fa proprio assaporare qual è l'utilizzo che potrebbe avere uno smartphone del genere con una buona batteria, una fotocamera grandangolare, un'estetica migliore, soprattutto sul davanti, però poi te la lascia lì in una vetrinetta perché non la puoi toccare, perché questo smartphone non ci arriva. Peccato, peccato davvero. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, mettete un mi piace, commentate e fatemi sapere la vostra, ovviamente, e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui, sul mio canale. E ancora una volta, un saluto da Simone. Ciao!